Arca organizza questo evento in cui è compresa anche la presentazione del libro di Cottarelli Sette peccati capitali dell'economia italiana per organizzare un'iniziativa del genere a Prato. Perché abbiamo voluto incontrare i nostri clienti presenti qui a Prato che sono diverse centinaia che hanno i nostri fondi comuni di Arca da numerosi anni e quindi ci è sembrato una bellissima occasione in questo posto bellissimo che è questo Museo Pecci e con l'opportunità di avere un relatore come Carlo Cottarelli che presenta questo suo ultimo libro. Con Cottarelli collaboriamo da diversi anni e abbiamo sempre presentato insieme a lui il suo libro sui territori dove siamo presenti con i nostri clienti. Quindi sia il primo libro che era un'analisi sulla spesa pubblica sia il secondo che era dedicato al debito che si chiamava il libro Il Macigno sia naturalmente anche questo terzo libro. Poi anche perché noi siamo tra gli sponsor dell'osservatorio sulla spesa pubblica che Cottarelli rientrando dagli Stati Uniti dal Fondo Monetario Dovera ha aperto circa un anno fa a Milano presso la Cattolica.